Gorla Maggiore, il municipio torna a casa. Dopo 12 anni, gli uffici comunali verranno riportati nella loro sede originaria, nell'incantevole Palazzo Terzaghi, rimesso completamente a nuovo. Ampie stanze, affreschi recuperati dai soffitti e dalle pareti, il cotto posato a terra e poi il museo che verrà realizzato al piano interrato con caldi mattoni a vista. Qui verranno collocate le opere di Odoardo Tabacchi, scultore originario della Valganna. Le sue sculture sono state donate all'amministrazione comunale di Gorla dalla famiglia dell'artista. Grande attenzione è stata poi dedicata all'efficientamento energetico, rendendo il Palazzo a impatto zero. Dopo quasi 12 anni dall'inizio del restauro e della ristrutturazione, siamo riusciti ad arrivare quasi a conclusione dei lavori e credo proprio che nel mese di maggio ci sarà l'inaugurazione definitiva della parte ristrutturata e degli affreschi restaurati. Affreschi che sono probabilmente del periodo settecentesco con un'ala del palazzo invece probabilmente del quattrocento. Insieme a questo palazzo stiamo ristrutturando anche la parte interrata che verrà adibita a museo dove troveranno collocazione le statue del tabacchi ricevute in donazione ormai circa 20 anni fa dalla famiglia dello scultore originario della Valganna. Sarà un palazzo green questo, un palazzo dedito al rispetto dell'ambiente, sarà un palazzo ad impatto zero, tant'è che abbiamo investito quasi centomila euro per l'endero completamente indipendente attraverso un impianto geotermico che fungerà da riscaldamento e da raffrescamento estivo. E non finisce qui, alla sinistra dell'edificio un altro antico stabile sta per rinascere per ospitare i più piccoli. Nel 2016 abbiamo abbattuto l'edificio che sta alla mia sinistra che era sostanzialmente dal punto di vista architettonico una superfettazione dei primi del novecento che non c'entrava nulla con la storicità del palazzo. Questo spazio sarà dedicato ad un parco giochi con giochi storici, in particolare il gioco dell'oca, laddove le piastrelle saranno studiate dai bambini della scuola elementare.